Allora, benvenuti, volevo presentarvi questo plugin, questo addon per Blender che si chiama Sorcar che permette di realizzare delle strutture anche abbastanza complesse in Blender in modo procedurale quindi costruendo una sorta di programmazione per installarlo la prima cosa da fare è cercare Sorcar, trovare questo github, questo link e arrivate in questo link dove c'è scritto Code, facciamo il download dello zip questo zip lo andate poi a lanciare dal vostro Blender quindi andate dentro i plugin, quindi andate dentro Preferences e negli addons fate install e andate a selezionare lo zip e io adesso l'ho già appena installato, ci fa install di quello zip dopodiché questo addon lo dovreste vedere installato cercando Sorcar e dovete abilitarlo questo è un plugin che è molto interessante, molto potente che quando abilitato consente di, magari mettiamoci anche l'auto check documentation come al solito ci spiega più o meno cos'è in questo caso noi andiamo sulla pagina principale la pagina principale vedete che ci permette di lavorare con dei nodi ora lavorare con i nodi in Blender è sempre considerato uno sporacchio ma vedrete che con questo plugin è non dico proprio divertente ma quasi quindi facciamo una cosa molto breve quindi la prima cosa, per lavorare con i nodi normalmente si lavora con lo shading tipicamente che è proprio il modo in cui si lavora con i nodi, con le texture ma noi facciamo come suggerisce il creatore andiamo qua con il mouse facciamo un tasto destro e facciamo join areas e semplifichiamo questa struttura quindi anche qua, tasto destro, join areas, a sinistra e poi da parte di sotto ci mettiamo il Sorcar shift F3 che sarebbe questo e quindi abbiamo il sistema di nodi di Sorcar qui costruiamo un nuovo quindi abbiamo un node tree nuovo geometrico e qui cominciamo a costruire i nostri cubi o quello che è quindi la prima cosa è di cancellare il cubo di partenza e di creare qua con add cerchiamo un cubo o qualcun altro di solito per me viene un filo più semplice fare un piano quindi prendiamo un piano e quindi prendiamo questo che è il nostro piano il nostro piano di partenza questo piano di partenza non si vede nulla per vederlo bisogna fare set preview e vedete che abbiamo il piano ora a questo punto comincia la parte divertente perché la cosa interessante è che Sorcar permette di descrivere quello che voi fareste un pezzo per volta ma in maniera diciamo organizzata dicendo tutti gli step che fareste per passare da questo piano o cubo o quello che è a una struttura più complessa quindi da questo punto di vista lo trovo molto interessante quindi la prima cosa è fare un subdivide quindi noi prendiamo un subdivide di questo e facciamo la suddivisione di questo oggetto e per vederlo suddiviso dobbiamo sempre qui fare il set preview vedete che ci fa vedere che è suddiviso in due parti ma noi lo suddividiamo in un pochino più di parti quindi 8, 9, 10 parti giusto per fare questo esempio ora selezionando le facce ecco la cosa che noi vorremmo fare è selezionare delle facce in maniera randomica quindi prendiamo un random add search random select e questo random select lo applichiamo al nostro oggetto e gli diciamo di fare la deselect casuale con una certa percentuale e qui anche dobbiamo fare il set preview vedete che lui ci ha selezionato solo alcune il 50% delle facce sono selezionate se qui deselezionate in questo caso quindi se noi facciamo 10 ad esempio vedete che la deselezione avviene ci sono molte poche facce deselezionate quindi se invece facciamo 90 sono quasi tutte analogamente quindi c'è questa differenza se invece prendiamo circa 50 quindi metà delle delle facce sono selezionate metà no e quindi sono selezionate in questo contesto essendo casuale si può cambiare il seed quindi per dire si prende un seed 1 e si ottiene una certa selezione fatta così quindi qui magari mettiamo 60 in modo tale da creare ecco quindi 60 se ne sono un po' di meno le facce selezionate e andiamo un po' a lavorare su questa cosa qua sempre dicendo di fare un inset inset vuol dire che ogni faccia viene ristretta quindi facciamo shift A qua shift A e cerchiamo l'inset l'inset è questo nodino che ci permette delle facce selezionate no che sono queste qua di applicare praticamente quindi facciamo individual e poi facciamo una thickness che qui dobbiamo però vederlo set preview vedete che tutte quelle facce selezionate adesso ce le ha ce le ha praticamente selezionate e qui con la thickness controlliamo praticamente quanto sono diciamo piccole rispetto all'altro ok allora questo select questo inset lo possiamo raddoppiare perché se noi facciamo una cosa che vorremmo fare è creare delle colonnine ovunque selezionato e quindi cosa facciamo raddoppiamo questo inset shift D prendiamo sempre degli stessi oggetti questo la thickness in questo caso la facciamo set preview ma la mettiamo a zero e invece modifichiamo la profondità che vuol dire che alziamo tutte le parti cioè tutte le facce selezionate vengono alzate ok e questo permette già di costruire diciamo un certo un certo scenario ora quello che fa interessantissimo il il nostro amico è quello di andare avanti e costruire un altro select random quindi prendiamo questo select random shift D lo mettiamo qua quindi selezioniamo solo alcune delle facce praticamente che sono selezionate qua quindi praticamente le selezioniamo selezioniamo ecco dobbiamo cambiare il seed perché se no ti seleziona più o meno le stesse facce quindi prima era uno mettiamo due quindi vedete che ne ha selezionate solo alcune delle facce che avevamo preso e di queste facce prendiamo questi due nodi che erano quello che lo stringevano e che le portavano su facciamo shift D lo mettiamo quindi qui a capo e gli facciamo praticamente che di queste e quindi facciamo il set preview di questo vedete che abbiamo praticamente costruito solo su alcune di queste di questi oggetti diciamo delle torri quanto siano effettivamente profonde alte eccetera dipende dalla thickness eccetera che abbiamo messo in questi in questi gradi qui conviene in realtà mettere una thickness un pochino inferiore 0,01 vedete così vengono praticamente delle specie di grattacieli che sono solo da alcune parti e noi possiamo a questo punto costruire quello che siano delle punte e le punte si ottengono con un altro oggettino che si chiama poke mi sembra poke allora il poke è un è un altro cosino un altro nodo che applicato e facendo il preview costruisce su questi palazzi che abbiamo appena alzato facendo poke praticamente possiamo costruire questa specie di tetti e quindi ci costruiamo questa specie di minareti no che sono poi di fatto una specie di cittadina insomma fatta da 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 blocchi o da o da palazzi insomma come volete organizzarli il ed è l'ho cercato di fare in modo in modo molto semplice no quindi viene fuori proprio una cosa così banale nel video in inglese di chi ha fatto questo plug-in lo applica su una sfera quindi ottiene un pianeta queste cose immaginatelo su un pianeta oltretutto se andiamo sulle statistiche vediamo che non ci sono tutti questi nodi nel senso che è comunque una cosa che ha 683 nodi quindi è fatta abbastanza bene ora la cosa interessante è che essendo costruita pezzo per pezzo io posso ricostruire in ogni momento le cose che voglio quindi se noi ad esempio all'inizio volevamo le dimensioni del cubo di partenza del piano anziché due metri lo vogliamo fare un po' più largo quindi 2,03 vedete che possiamo ingrandirlo e si ingrandisce tutto il resto proporzionalmente e quindi c'è praticamente diventa praticamente tutto tutto molto ripetibile e molto configurabile quindi modifico le dimensioni posso modificare il numero di subdivide quindi ad esempio se invece di 10 gli metto 11 o 12 vedete che diventa progressivamente più denso come edifici però man mano che diventa più denso ovviamente gli edifici diventano più appuntiti e quindi vuol dire che le depth dobbiamo accorciarle vedete che quindi lavoro su questo depth per accorciarla questo insert qua e poi sulla depth la seconda depth che è questa per accorciare la parte in alto e quindi ottengo un altro effetto questa cosa l'ho provata anche a spostare in OpenSim si sposta tranquillamente ricordate di fare di metterci un materiale di assegnare di un materiale quindi questo qui è un oggetto che è un oggetto singolo quindi dovete fare ovviamente la UV map quindi UV editing no? che tra l'altro qui in realtà se facciamo vedete che c'è già la UV map se non ci fosse dovete costruirvela comunque questa UV map la potete colorare semplicemente di un colore solo andando qua e mettendolo un materiale per esempio un materiale non so rosso giusto per dare un'idea e lo facciamo rosso e quindi a questo punto vedete che l'abbiamo colorato rosso se no alternativamente potete poi colorare e tra l'altro ci sono anche dei nodi dentro questo plugin che permettono di assegnare dei materiali in funzione dello stadio in cui si è arrivati quindi se noi torniamo nello shading torniamo in questa situazione di nodi e possiamo lavorarci quindi possiamo produrre tante cose e in ogni momento possiamo sempre tornare indietro a definire come questo programma di creazione possa generare quegli effetti io adesso ho visto e fatto vedere soltanto questi effetti ma in realtà i nodi disponibili sono veramente tanti e credo che per usarli veramente tutti ci vuole un attimino di studio alternativamente qualcuno mi ha chiesto se si può costruire anche l'interno di questi oggetti e almeno così semplicemente come la sto dipingendo credo di no però è possibile in qualche modo creare un suo tipo delle porte in ognuno di questi livelli qua e poi magari il cubo fargli un solidify qualcosa in modo tale da poterci entrare dentro ma il tutto non è detto che sia banale anche se vedendo adesso sembra che comunque internamente sia viene costruito in maniera vuota quindi potrebbe anche essere non essere così difficile riuscire poi a entrare in questi oggetti dandogli eventualmente anche un modificatore di solidify per dire se qui cerchiamo solidify esiste il modificatore solidify possiamo anche metterlo qua e quindi poter avere in sintesi quindi se noi colleghiamo il nostro oggetto qua quindi collegato e qui possiamo a questo punto è solidificato e se lo vediamo con la col trucco che prometteva di vedere la face orientation daremo a vederlo blu da un lato in realtà non l'ha fatto aspetta set preview ok si facendo il preview quindi vedendo esattamente questo qua questo ultimo blocco vediamo che è diventato blu sia sopra che sotto che vuol dire che è totalmente disponibile ok quindi probabilmente si può fare un bel po' di cose magari se ci riesco faccio e credo che ci sia anche il boole quindi probabilmente è possibile anche anche fare delle intersezioni per costruire le porte e credo che per questo video è tutto se volete esportarlo beh a parte salvarvelo no diciamo sei vas e lo chiamiamo sorca mi sembra non so perché abbiamo chiamato questo nome sorcar quindi sorcar esempio sorcar quindi facciamo esempio sorcar ok e poi quando lo volete in realtà esportare ricordatevi che se lo fate per open sim fate export con lada e ricordatevi di mettere selection only avendo selezionato e quindi per portarvelo in blocco su open sim se vi interessa o dove vi interessa credo che sia tutto per questo piccolo video come vedete nonostante il fatto che poi alla fine sembra diventare complicato ma in realtà ogni simbolo ogni singolo nodo che costituisce questa cosa qua equivale a una sorta di coding visuale che direi che sia anche un buon inizio per imparare a codificare cioè a fare del codice che produca un risultato visibile osservabile utile e soprattutto senza dover per rifare un'operazione del genere cambiando solo alcuni dettagli è possibile solo lavorare sul singolo blocco senza dover rifare tutto da capo credo che sia tutto buonasera grazie a tutti